La Regione ha riaperto i termini dell'avviso pubblico per individuare i due manager delle ASL provinciali dell'Aquila e Chieti. La Giunta ha stabilito infatti la riapertura dei termini per la presentazione delle domande e per la manifestazione di interesse al conferimento dell'incarico di direttore generale delle ASL, Avezzano Sulmona l'Aquila e Lanciano Vasto Chieti, per un tempo di 15 giorni, decorrenti dalla data di ripubblicazione dell'avviso. La decisione è stata necessaria dopo i due ricorsi relative al limite di età di 65 anni, presentati da aspiranti che hanno partecipato al bando, lanciato a gennaio, come si ricorderà, dalla precedente giunta di centro-sinistra. Ricorsi che di fatto hanno fatto slittare la decisione di nominare due manager in aziende che ormai dal 15 marzo sono senza titolare, alla luce del fatto che la commissione esaminatrice ha concluso il lavoro di esame delle 39 domande. La nuova stima ora è per metà luglio. La Regione, nella nota, precisa pure che restano validamente acquisite le domande già presentate. La decisione presa dall'esecutivo presiduto dal Governatore Marco Marsilio di Fratelli d'Italia è supportata anche dal parere dell'Avvocatura regionale e dalla posizione espressa dall'Ufficio legislativo del Ministero della Salute. Nel parere reso dall'Avvocatura in relazione al previsto limite di età anagrafica inserito nell'avviso precedente, si legge che le singole Regioni, le quali attingono unicamente all'elenco nazionale, possono utilizzare per il conferimento degli incarichi i soggetti inseriti per i quattro anni di validità dell'elenco, anche se gli stessi abbiano superato dopo la domanda di partecipazione alla procedura nazionale i 65 anni. Significa che i soggetti inseriti nell'elenco nazionale possono essere destinatari di incarichi da parte delle Regioni anche dopo il compimento del 65esimo anno di età. Con il provvedimento proposto dall'assessore alla sanità Nicoletta Veri, la Giunta ha deciso di eliminare dall'avviso pubblico precedente i riferimenti al requisito dell'età inferiore 65 anni. Il nuovo avviso sarà pubblicato sul sito della Regione www.regioneabruzzo.it e anche sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.